Ciao, sono Martina e vi racconto la mia esperienza al salone del camper. Siamo partiti la mattina da Firenze, direzione Parma. Dopo una colazione abbondante e una sosta in autogrill siamo finalmente arrivati. Ci troviamo nel parcheggio! Appena entrati abbiamo esplorato ogni camper e ban che vedevamo, facendo sempre finta che fosse il nostro. Tutti quei giri ci hanno fatto venire fame e ci siamo fermati fuori dai padiglioni sotto un tendone dove facevano la pizza, che accompagnata una birretta ci ha ridato la carica per continuare. Ma attenzione, ci sono molte altre soluzioni per pranzare. Una volta finito siamo andati a vedere ogni tipo di accessorio disponibile, curiosando quella e prendendo spunto dalle varie idee esposte, soprattutto nelle riviste di cui abbiamo fatto scorta. Poi alle 18 il salone cominciava a chiudere e noi ci siamo avviati all'uscita, convinti che saremo tornati l'anno prossimo. E tu che ne pensi? Ci sarai alla prossima edizione? Fammelo sapere in un commento. Che aspetti? Dai vai!